Chi le ha detto che i matti mettono tristezza? A domandarselo è Angelo Antonio Poloni, protagonista del romanzo Ombra mai più, il nuovo libro di Stefano Redaelli, scrittore abruzzese originario di Lanciano, che torna in libreria dopo il successo di Beati gli inquieti, edito dalla casa editrice Neo di Castellisangro e selezionato per il premio Campiello, premio Napoli e premio Flaiano 2021. Col suo ultimo romanzo, Ombra mai più, Stefano Redaelli, professore di letteratura italiana presso la facoltà Artes Liberales dell'Università di Varsavia, continua il suo racconto sulla fragilità che accomuna tutti, matti e sani, buoni e cattivi. Questi romanzi cercano delle risposte, che sono anche ulteriori domande, come spesso capita in narrativa. Attraverso la storia di questo personaggio, Angelo Antonio, che in Beati gli inquieti frequenta per interesse scientifico, almeno così ci dice, ma probabilmente per un'inquietudine più profonda, una struttura psicoriabilitativa, proprio per rispondere alla domanda ma che cos'è la follia? E intraprende questa avventura che si svolge nella casa delle farfalle, in Beati gli inquieti. In Ombra mai più la storia continua perché Angelo Antonio si confronta con la follia del mondo, torna a casa in quello che dovrebbe essere un luogo sicuro, di persone sane e razionali e invece inizia a scoprire che questi luoghi comuni, queste definizioni di follia, di normalità, di sanità e malattia, sono delle convenzioni che invece la vita, le relazioni umane a volte sovvertono. Nello sviluppo narrativo, lo spazio chiuso della follia e dei tre lunghi anni che il protagonista Angelo Antonio ha trascorso in una struttura psichiatrica, raccontati in Beati gli inquieti, si apre al mondo di fuori, in Ombra mai più, dove Angelo Antonio dovrà confrontarsi con una società che adesso guarda con sospetto allo stigma sociale di chi ha subito un trattamento psichiatrico. L'incipit di Ombra mai più è proprio questo, è stato lì, lui quando torna a casa incontra dei ragazzi del quartiere, questi ragazzi la prima cosa che dicono è stato lì e lui capisce che lui non è Angelo Antonio Poloni, lui è quello che è stato lì, cioè in una casa di cura, come Alda Merini diceva, tornata a casa io ero la pazza della porta accanto, non ero una scrittice. Il libro sicuramente affronta questo stigma con la speranza che anche una storia, un racconto, così come l'informazione, contribuisca a colmare quel solco, che così lo chiamava Basaglia, che divide il mondo dei sani dal mondo dei malati, soprattutto il mondo dei sani dal mondo della malattia mentale, di cui sappiamo veramente ancora troppo poco. Le cose che sono anche il frutto di una sedimentazione di stereotipi, cioè quindi una paura, la follia come violenza, la follia come perdita di senso, la follia come pericolosità. Ecco questo romanzo mostra un altro volto della follia. Con una prosa precisa, raffinata e poetica, Redaelli indaga il confine precario tra la follia del mondo e la saviezza dei folli, a 40 anni dalla legge Basaglia che decretò la chiusura dei manicomi. A livello psichiatrico molto è cambiato, grazie a Franco Basaglia si pratica una psichiatria gentile, non ci sono più luoghi appunto di contenzione, non ci sono manicomi che erano dei veri e propri lager, nella terapia si punta al rapporto, alla relazione. Cosa invece non è successo? Questa riforma della cultura, del pensiero, dell'idea di follia, di pazia, di malattia mentale. Su questo c'è molto molto da lavorare e tutte le operazioni culturali, artistiche, teatrali, letterarie che contribuiscono a informare ma soprattutto a far sperimentare, a far prendere il punto di vista dell'altro, del malato o del folle, sono un passo avanti verso questa riforma culturale che è molto necessaria perché il folle può essere anche chiunque di noi. Ciò che è umano in noi a volte, particolarmente nella follia, è sempre in pericolo ed è molto più in pericolo a volte nella società dei sani, nella normalità, nei costumi che abbiamo indossato e dai quali non sappiamo spogliarci.